Niente correnti interne al movimento, altrimenti rischiamo di diventare come i partiti e soprattutto vorrebbe dire aver tradito i cittadini che ci hanno votato. Queste le parole del deputato del Movimento 5 Stelle, Roberto Fico, che ha commentato la recente espulsione dei quattro senatori pentastellati. Non vogliamo correnti interne all'interno del movimento. Se si creano correnti interne diventiamo come i partiti. E noi dobbiamo combattere il sistema e siamo chiamati a questo. Se non lo combattiamo e diventiamo come il sistema abbiamo fallito. Questa è una tutela per tutti i cittadini che hanno votato il Movimento 5 Stelle, una tutela per il Movimento e per l'Italia stessa. Ai senatori espulsi, secondo i quali il loro allontanamento sarebbe stato ordinato dall'alto, cioè da Grillo e Casaleggio, Fico risponde così. Non è vero perché ha visto bene la votazione in rete. Hanno deciso tutti gli iscritti certificati perché queste persone rilasciavano continuamente interviste contro la decisione presa in ore della maggioranza. E quindi si sono fatti anche loro stessi un'analisi, una valutazione e hanno votato per l'espulsione che è stata fatta davvero in grande maggioranza sul portale del Movimento. E ognuno è libero e uno vale uno lì. Intanto a Napoli l'incontro del Movimento a Porta del Parco di Bagnoli Futura, saltata per maltempo la marcia in bicicletta al Tavolo dei 5 Stelle, oltre a Roberto Fico i senatori cittadini Paola Nugnes, Salvatore Micillo, Carlo Mortelli e Manuela Serra, per ribadire il proprio no al progetto di ricostruzione di città della scienza sull'arenile. Per Bagnoli, concludono i grillini, ci sia un'operazione trasparenza, questa volta priva di società partecipate. E avere oggi il Parlamento dei nostri...